carissimi amici di cultura del progetto cultura che nasce per la condivisione dell'arte della cultura benvenuti a questa nuova puntata dell'intervista questa sera avremo il duo il due acoustic con noi etichetta music force e li conosceremo dal vivo nel frattempo ci gustiamo la sigla di apertura del programma e ci rivedremo qui tra pochissimi secondi allora benvenuti ecco buonasera a tutti buonasera salve buonasera come potete vedere sullo schermo c'è la copertina del cd del due acoustic dal titolo stop perfetto siamo qui presentatevi carissimi inizio io faccio la voce alla donna sì beh dai faccio il cavaliere no per cavalleria allora buonasera a tutti io sono morena continui e sono la voce diciamo l'autrice non totale del cd che poi andiamo a presentare che si chiama stop e noi insieme siamo i due acoustic ok io sono sandro di nino sono il chitarrista non che co autore di alcuni testi e arrangiatore e compositore e sono quindi con morena i due acoustic allora adesso al di là del nome no perché due si 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 capisce si evince subito perché di 22 acustica questo 2 acustico appunto composta da morena continui alla voce solista e sandro di nino la chitarra acustica questa musica io ho avuto modo di gustare cd c'ero qui poi ho una particolare linea preferenziale con alessandro della music force ecco music force questo cd poi vedremo dove in tutti gli store chiaramente anche online la musica del due acoustic oltre al fatto che da piacere perlomeno è opinione mia personale e sono sincero grazie tu l'albero il tuo fiore stop dimmi o nei ninna nanna donna allo specchio ciao che fai loft suscita forti passioni perché stimola i ricordi stimola davvero i ricordi perché come dite voi in un'altra presentazione che avete fatto tempo fa la vostra musica ripercorre la storia musicale passando nel cantautorato italiano quello internazionale passando per i classici del jazz e del blues ma lo sapete che una volta jim morris il grande jim morrison disse che un giorno anche la guerra si sarebbe inchinata alla musica io devo dire ho ascoltato un grande piacere il vostro cd mi è piaciuto poi soprattutto quando ho scoperto che insomma è vero che siete nati come duo nel 2019 correggetemi se sbaglio questo progetto però avete alle spalle una storia regressa nel campo della musica sia morena che tu sandro raccontati un po ma parlo io parlo morena ma nel 2019 che è successo come vi siete incontrati allora e non è che allora io e morena ci conosciamo già da diversi anni perché con io con lei insomma collaborato in un paio di diciamo di spettacoli che lei aveva scritto ha scritto e quindi così insomma abbiamo collaborato artisticamente appunto per queste 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 organizzazioni artistiche che lei aveva aveva messo su poi ovviamente ognuno ha seguito i propri e le proprie per la propria strada che avevamo già intrapreso poi fondamentalmente perché io avevo dei gruppi collaboravo già con delle degli altri artisti eccetera e quindi ci siamo persi un po tra virgolette di vista nel 2019 che cosa è successo è successo che grazie ai social che fondamentalmente almeno ogni tanto svolgono un ruolo positivo ci siamo rincontrati così diciamo in maniera in maniera del tutto casuale ma allo stesso tempo volutamente se è casuale non è voluta no diciamo che sono tutte due le cose e abbiamo così ci siamo chiesti ma tenuto conto delle esperienze che abbiamo tenuto conto di quello che ci piace fare che abbiamo molte similitudini dal punto di vista artistico musicale perché non 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 ci mettiamo insieme per appunto per per creare un qualcosa di originale dal punto di vista musicale artisticamente creando sì un duo ma stabilendo un repertorio una scaletta che non sia del tutto comune ai normali duo o trio insomma che normalmente diciamo perseguono la via della musica live e così abbiamo fatto cioè quindi io ci siamo ci siamo ritrovati a casa in sala prove eccetera e abbiamo iniziato a mettere su un repertorio diciamo molto molto ma molto vasto ma allo stesso tempo anche un raffinato ecco perché cantautorato italiano internazionale passando per i classici gli standard jazz blues nonché musica inedita che lei poi tra l'altro prima di stop morena aveva già inciso dei suoi brani per cui tra l'altro alcuni dei quali appunto li abbiamo anche riadattati prima dell'uscita del nostro disco del nostro disco in chiave acustica è così che è nato questo progetto il resto lo lascio dire a morena sono poi divento troppo troppo prolisso io e volevo sapere però intanto che è passato la palla a morena cioè autrice cantautrice paroliele interprete i test i testi sono i tuoi quindi di questo cd o li avete elaborati insieme come come no allora guarda i testi sono i miei tranne uno che dimmi dimmi l'ha scritto sandro quindi è suo proprio come composizione in toto io ho prestato solo l'interpretazione quindi la voce invece gli altri sono sono miei come così proprio come tra negli arrangiamenti che ha fatto sandro insomma poi per quanto riguarda le sia la scrittura che diciamo la melodia ecco poi lo li ho fatti insomma sono i miei poi ovviamente li abbiamo elaborati assemblati ovviamente quando nasce una canzone non è che nasce così deve essere anche modulata e modificata soprattutto con la musica a seconda di quelli che sono gli arrangiamenti perché poi prende la personalità no proprio anche attraverso la musica non è come diceva l'altra la volta scorsa durante la trasmissione essendo il progetto nato in un contesto in cui c'era poi lockdown e tutto quanto quindi le prove e tutto sono state fatte proprio a distanza sì 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 abbiamo sì anche se poi vi trovate vicini no perché siete entrambi ad Ascoli Piceno io poi poco distante poco distanti a 19 chilometri siamo però comunque non potevamo vederci assolutamente il periodo del lockdown il primo lockdown poi tra l'altro sono i congiunti musicali no no esatto esatto no devo dire che quando ci hanno liberato un attimo noi abbiamo proprio allestito il mio balcone con le casse lo stereo tutto quanto abbiamo fatto un concerto per le persone che passavano sotto casa quindi è stato è stato molto divertente perché non c'è con non ci siamo accontentati di cantare sul balcone noi proprio ci abbiamo messo le casse il mixer è stato un live concert sul balcone di morena che è passata è passata dalla storia questa la realizzazione è stata in vista possibile anche grazie a degli sponsor a questo punto è giusto citarli eccoli qua sì ecco guarda allora assolutamente assolutamente sì sì la mele la elettromeccanica fioravanti l'accademia del chef di san benedì porto d'aschio da metodo del tronto e pittoroso che è uno studio di parrucchieria e di estetica di acqua santa terme si scancella lorenzo e chi lavora il marmo e forno marozzi e che l'art store berlin e che tra l'altro è un nostro sponsor perché 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 quello che poi fondamentalmente ha realizzato le copertine si è un grande che guarda caso è il figlio di morena quindi rimasta in casa molto bravo molto molto bravo è il suo mestiere non è che perché è mio figlio è un professionista si vede ha prestato la sua opera per dare per dare lustro alla copertina insomma perché poi si vede che è fatto in maniera professionale insomma non è che e quindi niente noi ognuno a casa propria morena mi passava ai testi e le melodie che lei aveva scritto e io poi ci ho tessuto sopra le musiche lavorando in studio che qui ho tutto l'armamentario che non si vede però insomma è tutto 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 ciò che ha a che fare con l'home recording e quindi pian piano abbiamo messo su questo questi otto brani che poi sono diventati quelli del l'hai cercata tu quindi morena cioè voglio dire un'idea che ci siamo ci siamo cercati a vicenda c'è stata una cosa si no posso aggiungere una cosa visto che parla sempre sandro infatti è il suo difetto peggiore nonostante io sono la voce parla sempre lui io quando facciamo i concerti gli tolgo il microfono perché non è possibile quando comincio niente non si può fare niente volevo dire relativamente ai testi no che uno in particolare che è donna allo specchio io l'ho scritto tanto tempo fa devo dire insomma aveva tutta un'altra caratteristica era più barocca diciamo come l'arrangiamento che mi avevano fatto all'epoca era quello però non mi non mi soddisfava devo dire non mi dava quello che io volevo di quella canzone e sandro è riuscito invece a trovare il giusto arrangiamento infatti quando l'ho sentito detto no è suo cioè è lei cioè proprio lei e quindi questa è una cosa penso anche molto bella perché non è facile far capire a chi poi ti deve fare un arrangiamento che cosa vuoi no e come lo vuoi e che cosa deve esprimere e secondo me è insomma su quella canzone è venuto veramente un lavoro di di equip quindi un lavoro che ci ha portato a una secondo me una bella canzone assolutamente ma poi del resto ci ha accomunato nel senso che io ho iniziato a capire come lei intendeva le giustamente le sue canzoni e lei come come io e qual è la mia mia personalità tra virgolette compositiva e artistica e quindi per quanto concerne gli arrangiamenti quindi è nata questa questa osmosi che funziona molto bene cosa che non è semplice da trovare tra tra due artisti specie con autrice compositrice completa come lo è lei perché io sono sì compositore ma mi reputo più arrangiatore che non e quindi non sono tra l'altro un canta un cantautore quindi il rapporto con la music forza alessandro carletti orsini che è una persona straordinaria che salutiamo ciao alessandro ciao la music force così approfittiamo come nasce questo incontro parla lui perché è lui che ha fatto tutti gli agganci quindi stavolta lo devo far parlare per forza cercherò di essere sintetico con la music force perché ne avevo già personalmente sentito parlare in quanto è stata all'etichetta di un gruppo con il quale io ho collaborato di asco rivigeno un gruppo sempre emergente che aveva appunto realizzato un ct un album con loro e con con la music force e dove io ho praticamente messo delle mie arrangiamenti di chitarra e sentendo vedendo e sentendo quindi ascoltando il loro lavoro li ho contattati anche perché poi sono qui vicino a chieti quindi tra l'altro non bisognava fare una bisognava fare una grande granché strada insomma per raggiungerli un giorno l'ho chiamato parlo proprio con alessandro tra le altre cose e ci siamo dati appuntamento quindi con morena siamo andati a chieti e poi ci è piaciuto ciò che ci hanno ci hanno prospettato praticamente come come etichetta e come discografica e come come produzione insomma anche come relazione umana perché soprattutto come relazione umana è nata comunque è una bella amicizia ovviamente sempre nella professionalità però insomma c'è anche un vero rapporto umano che non guasta no assolutamente assolutamente si no se abbiamo avuto un modo anche lui di di apprezzare il lavoro di alessandro e di entrare in contatto con altri autori da lui proposti per le interviste e via dicendo tramite lui abbiamo incontrato versione straordinaria e state ora che non voglio dire ci si può si può anche lavorare tanto più a stretto contatto rispetto a prima poco tempo fa state diciamo realizzando qualcosa di nuovo state pensando a qualcosa di nuovo allora abbiamo già iniziato abbiamo già iniziato a fare tra le fate magari per quanto riguarda le serate si stiamo lavorando stiamo cercando insomma è sempre più difficile perché la situazione economica un po no è così instabile quindi però insomma diciamo non non vogliamo lamentarci ecco certiamo stiamo cercando quanto però stiamo anche lavorando a un nuovo prodotto perché nel frattempo abbiamo scritto altre canzoni con altre musiche insomma stiamo piano piano realizzando ecco anche le varie registrazioni al momento ne abbiamo registrate solo due però ancora sandro non mi fa sentire che cosa è uscito questo nello faccio in diretta il cicchetto perché abbiamo registrato appena due canzoni al nostro prossimo il prossimo album ma guarda è un album che conterrà una decina di pezzi adesso non sappiamo cioè non sappiamo dobbiamo decidere il titolo però quello che qualche tempo fa mi ha suggerito morena mi piace veramente non l'ho suggerito io e sandro chi l'ha suggerito il l'ho suggerito proprio alessandro alessandro che ha suggerito ma guarda caso io penso a posti tale comunque conterrà una decina di brani anche questi perché a noi ci piace spaziare tra un genere è un altro praticamente perché diciamo che è una nostra come dire una nostra caratteristica peculiare spaziare sui generi musicali questo conterrà dei brani che spazieranno tra il rock melody la classica ballata rock dei brani rock un po più spinti cioè che hanno non prettamente hard ma è che sono proprio più roccheggianti proprio che vede più protagonista per orecchitare elettriche e quant'altro e anche dei anche una bella bossa una panamala una panamala ballata panamense da questo punto di vista diciamo che c'è ce n'è per tutti i gusti ce ne sarà per tutti i gusti e qui chiaramente no non siamo diciamo che ci sono bene o male i testi bene o male le musiche però dobbiamo fare ancora tutto il lavoro di registrazione poi sandro insomma deve lavorare bisogna registrare poi bisogna tutto quadra perché tra ovviamente tra lei che è l'autrice dei testi io delle musiche anche delle melodie e chiaramente poi è qui dobbiamo ecco dobbiamo trovare la quadra no come si dice perché magari sono delle dei dei brani che inizialmente magari hanno un senso x perché l'abbiamo voluto appunto comporre in quella maniera poi magari stata facendo registrandoli ci rendiamo conto che magari vanno sostituite alcune cose oppure vanno vanno modificati alcuni arrangiamenti quindi è chiaro che sarà un processo un po più più lungo e niente quindi diciamo lavoro in corso praticamente se riusciamo per fine anno speriamo speriamo noi cerchiamo sempre di scrivere come tutti gli artisti emergenti di darci di dare sempre qualcosa di nostro e speriamo che poi venga che venga apprezzato insomma al di là del live che stiamo cercando intanto segnandoci qualche data stanno venendo fuori le prime date sperando che di aprire una stagione estiva insomma abbastanza abbastanza soddisfacente perché come diceva morena non è una cosa semplice perfetto potete lasciare un indirizzo email qualcosa per chi volesse mettersi in contatto e conoscere anche l'evento le eventuali date per dei concerti sperate che magari programmerete per quest'estate allora la cosa semplicissima allora il canale che noi sfruttiamo di più dove dal resto tra l'altro abbiamo diversi follower che appunto il canale sociale che ci permette di interagire più facilmente con il nostro pubblico è comunque il canale facebook che semplice basta digitare due acoustic pronuncia acoustic stessa cosa su instagram e per quanto concerne facebook che è collegato a messenger e quindi come se fosse whatsapp praticamente comunque dei casi quindi è facilissimo interagire con noi anche perché abbiamo messo un pulsante appunto per chi per chiesi per chi ente fosse interessato di poterci e di poter interagire appunto con 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 noi inoltre e per chi volesse abbiamo anche la nostra mail che appunto e due acoustic chiocciola gmail.com quella in maniera molto sempre molto sempre aggiungo che noi ci spostiamo volentieri anche all'estero perché vogliamo veramente andare oltre cioè nel senso la musica appunto non non deve avere confini no quindi no mi piace l'idea di poter fare anche nuove esperienze ecco perché noi al momento insomma parte l'italia o comunque centro italia perché il posto dove stiamo si ci spostiamo però ecco siamo sempre in questo bacino d'utenza e ci hanno ci avevano contattato la germania questo insomma ci piacerebbe veramente fare esperienze all'estero perché arricchisce insomma è sempre no conoscere nuove cose sempre qualcosa che che ti porti dentro e che ti fa crescere questo massi sicuramente noi abbiamo avuto un contatto verso gennaio no verso febbraio febbraio è stato e da parte di un alcuni locali di amburgo che ovviamente fa parte di diciamo del quartiere popoloso di italiani no come se fosse del little big italy e a new york in america e dovremmo spero io spero che si concretizzi ma questo più che altro è dovuto sempre al discorso del della pandemia ma non è che lì stavano meglio di noi è fondamentalmente quindi tutto si dovesse sbloccare come noi speriamo insomma spero che si concretizzi questo anche perché chiamiamo mini tour di una settimana ad amburgo ad amburgo anche perché no ci tengo a sottolineare una cosa perché magari per chi ascolta potremmo in due che pretendete di fare fondamentalmente dal punto di vista perché se non c'è orchestralità no no e quindi qui ci tengo non tengo a sottolineare questa situazione cioè ecco noi abbiamo una particolarità rispetto alla moltitudine e questo che ci piace dire ci piace perché non è la solita canzone o il solito pezzo inedito cioè suonare con la chitarra io utilizzo la tecnica del fingerstyle appunto cioè cercano di utilizzare il la polifonia dello strumento con quello che che sono le caratteristiche vocali di morena che sono praticamente polietriche quindi che si sposa bene un po su tutto e questa è questa particolarità diciamo non la troviamo spesso nelle altre situazioni parlo di duo massimo trio ed è per questo insomma che ci piacerebbe che che anche all'estero ci insomma ci di essere un po più di quello che mi piacerebbe anche poi vedere i video in germania con un bel boccale di birra che mi salutate quello sicuro quello sicuro pochissimo tempo fa in germania diceva platone che la musica è per l'anima quello che la ginnastica è per il corpo quindi poi abbiamo bisogno di nutrirci di musica e ragazzi fatelo anche ascoltando queste due persone fantastiche sono morena e sandro il gruppo 2 acustic vi ricordo che potrete trovare o sul sito della music forza maggiori informazioni quindi music forza punto it oppure appunto sul loro canale del 2 acustic youtube sulla pagina facebook e altri social e oppure scrivendo a noi e vi metteremo in contatto con loro a cultura chiocciola hotmail.it ricordo che cultura è un progetto che nasce da artisti per gli artisti per gli amanti della cultura per la condivisione a livello mondiale internazionale ed è un gruppo molto grande e molto potente proprio perché opera gratuitamente ed è un no profit quindi visitate il nostro sito culturaproject.org dove troverete maggiori informazioni oppure anche sul sito sulla pagina facebook vedere qui c'è scritto sottoscrivi iscriviti al canale eccetera aiutateci iscrivendovi al canale perché prima di tutto riceverete le notifiche in tempo reale quando stiamo per trasmettere e poi perché potete partecipare tranquillamente anche voi a tutte le nostre rubriche anche le interviste noi ringraziamo morena e sandro del 2 acustic vi invito ad ascoltare come ho fatto io perché poi quando ci arriva nella redazione i cili musicali io li ascolto subito e non una volta soltanto perché devo metabolizzare sentire due tre volte la prima volta c'è anche pubblicità e bisogna metabolizzare ascoltare riascoltare grazie ragazzi buon lavoro grazie grazie a te grazie a voi e ci è piaciuto molto incontrarvi altrettanto lo è stato e lo è per noi veramente vi saluta e alla prossima edizione ciao ciao